In questa sessione invernale di calciomercato, fra le priorità della Virtus Francavilla, c'è lo sfoltimento degli under presenti in rosa. Per tre classe 2002 è stata già trovata una sistemazione. Il club biancazzurro è attualmente al lavoro per formalizzare la cessione in prestito di Nicolas Magnavita, il centrocampista 19enne che in stagioni ha collezionato quattro presenze fra campionato e Coppa, proverà a farsi spazio fra le fila della Mezzia Terme, una delle migliori formazioni del girone I di Serie D. Attesa a breve l'ufficialità dell'operazione. Serie D in vista anche per Abubacar d'Acostà, che giocherà però nel girone H, vestendo i colori di un'altra Virtus, il Matino. Esperienze in eccellenza invece per Andrea Sarcinella, che verrà girati in prestito al Massafra. Con la cessione di puntoriere al Ticino saranno dunque quattro le operazioni in uscita del Villa, che ora potrà valutare qualche innesto.